Petizione personale. Chiedo al mio potente Dio Spirito interiore, per un grande, grande amore per il nostro creatore, un grande amore per tutti i maestri illuminati e tutta la creazione. Per la mia potente presenza io sono. Chiedo umilmente che tutti i remi illuminati mi aiutino con tutte le mie malattie e problemi di involucro carnoso, rifiuto, dipendenze, incluso essere sfocato, non centrato, agitazione preoccupante e tutta l'angoscia o l'ansia. Per favore, trasmuta tutta questa negatività, emozioni negative, dipendenze e azioni da questa ottava inferiore alle ottave superiori, per non essere creata per tutta l'eternità dalla fiamma di Ola D.S.T. Germaine. Per favore, raddrizza il mio calice dentro e riempilo traboccante di amore, saggezza e conoscenza. Chiedo aiuto a Elarion, il guaritore, e che tenga un mantello curativo su di me per una guarigione continua e mi protegga sempre. Per favore, aumenta continuamente e velocemente le mie frequenze armoniche a 169.443, per il decollo, e dammi la totalità della mia anima e la centralizzazione del mio essere. Per favore, tienimi concentrato e calmo. Per favore, circondami con la luce bianca di Dio Ton e la luce blu di San Michele. Chiedo che ciò avvenga a nome di Sananda. Amen. Grazie a tutti.